Buongiorno Andrea. Buongiorno signor Molinari. Cosa posso offrirle oggi? Vorrei un caffè Kenya Selecto. Ottima scelta. Ieri ho provato l'aromatizzato al cioccolato e era squisito. Solo con Selecto posso avere 14 varietà di espresse diversi, tra monorigini, aromatizzati e miscele. Hai proprio ragione Andrea, il caffè buono come al bar non si beve da nessuna parte, tutti gli intenditori lo dicono. Puoi mettere il caffè fatto al bar con quello a casa della napoletana e per non parlare poi di quello fatto con le macchinette che hanno 5 grammi contro 8 e mezzo di questo qui, è una roba incredibile. Oggi lo bevo senza zucchero perché è un caffè molto dolce di natura. Selecto. Il miglior caffè si beve solo al bar. Migliore il caffè, migliore la vita. Selecto System.